Andrea è la principessa angelica, lui milanese di origini siciliane e lei isolana al 100%. Un'estate trascorsa a Messina diventa galeotta fra i due, la cui storia fino al termine del romanzo né alba né tramonto di Roccoioppolo lascia il lettore col fiato sospeso. I protagonisti sono circondati da un gruppo di amici che rendono ancora più colorata la loro estate messinese. Si intrecciano storie, amori, giornate di spensieratezza ma anche di riflessione profonda e di dolore. Sullo sfondo la Sicilia, che in realtà è la protagonista indiscussa delle pagine del romanzo presentato nell'Aula Consigliare Giovanni Paolo II di Tortorici. L'isola è infatti onnipresente con le sue eterne contraddizioni, la bellezza, il verde dei Monti Nebrodi e quello del mare cristallino. Fra i luoghi scenario del romanzo anche Tortorici, luogo natio di Roccoioppolo insegnante alla ragioneria del centro nebroideo. È un piccolo romanzo in parte autobiografico ambientato fra Messina e Tortorici e altri comuni della provincia. È un piccolo omaggio in fondo alla positività dei luoghi di Messina e provincia. Noi di solito vediamo sempre la parte negativa, spesso i romanzi parlano di mafia e di cose negative. Qui mi piaceva sottolineare invece gli aspetti positivi, anche se ci sono le ombre e in qualche caso nella vita della protagonista lo si vedrà. La presentazione del libro, a cui è seguita la visione del cortometraggio e le fanciulle di Tortorici, realizzato dagli studenti dell'istituto sotto la guida di Roccoioppolo, è stata organizzata dall'ADSET, l'Associazione Dirigenti Scolastici e Territorio. Noi vogliamo che tutti, soprattutto i giovani che si cimentano nel particolare, nelle forme letterarie, nelle forme artistiche abbiano il loro spazio reale dove poter presentare l'opera che loro hanno fatto.